Altre notizie La sera dell'8 marzo al Cinema Romano di Torino è stata proiettata l'anteprima del film La Sorgente dell'Amore di Radu Milanu per iniziativa della consulta femminile e a Iace Torino in occasione della Festa della Donna. La consulta femminile regionale del Piemonte coglie l'opportunità di questa importante anteprima di un film a tematica femminile per celebrare l'8 marzo con qualcosa di senso cioè che aiuti come al solito a far riflettere sulle problematiche femminili sui vari modi anche a volte ironici che le donne usano per la loro affermazione e la loro promozione. Lontane o vicine che siano, le donne hanno tutti gli stessi problemi e sanno affrontarli.